In questi cinque anni di lavoro a Bruxelles sono state tantissime le attività portate avanti da me, insieme ai colleghi, per tutelare l'Italia e le imprese italiane. Tra queste non possiamo dimenticare la vicenda delle concessioni in balneari. Sulla base della cosiddetta direttiva Bolkestein, l'Europa sostiene che tutte le concessioni, anche quelle già in essere, dovrebbero essere messe a gara, con il rischio quindi che chi ha già investito finora si veda scippare il diritto a svolgere il proprio lavoro. Non si contano le nostre interrogazioni, i miei interventi e i comunicati stampa per scongiurare il rischio che Bruxelles distruggesse un settore chiave per il turismo italiano. La stessa Lega negli anni passati ha cercato in tutti i modi, anche a livello governativo, di trovare una via d'uscita e nonostante tutto, anche per questa stagione, gli operatori del settore non avranno certezze sul destino delle proprie imprese. Il governo italiano ha mappato in questi ultimi mesi le nostre coste per dimostrare che nel nostro paese la maggior parte delle spiagge si è in realtà libero e quindi la direttiva non debba essere applicata alle concessioni già esistenti. Ma Bruxelles, tanto per cambiare, non si accontenta, continuando a contestare l'Italia, i nostri operatori. È arrivato il momento di riconsiderare da capo questa direttiva perché deve rientrare tra le priorità della prossima commissione e il nuovo Parlamento europeo dovrà poi verificare che ogni passo si svolga nell'interesse delle imprese e dei lavoratori italiani prima di tutto. Per questo, alle prossime elezioni europee, io voglio essere lì, al vostro fianco, insieme a voi per scrivere insieme una norma che tuteli veramente e finalmente i nostri balneari.